Il Palio di Taranto è giunto alla sua 35esima edizione. Il torneo dei rioni per barche a remi è stato presentato oggi all'interno del Castello Aragonese. 21 e 22 agosto quest'anno in via eccezionale si svolgerà soltanto nel canale navigabile. Il 21 nei semifinali, sabato invece la finalissima a partire dalle 18 con diretta su canale 85 Antenna Sud. La manifestazione gode come sempre del patrocinio dell'amministrazione comunale di Taranto e della Federazione Italiana Cannottaggio. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre al patron dell'evento Franco Simonetti, c'era anche il sindaco Rinaldo Melucci e gran parte della giunta comunale. La prima particolarità che siamo riusciti a organizzare l'evento del 2020, nonostante tutte quante le difficoltà Covid, abbiamo attuato delle disposizioni particolari. Facciamo la gara in un posto incredibilmente bello, il più bello della città di Taranto, nel canale navigabile. Infatti lo facciamo anche come esperimento perché potrebbe diventare proprio il campo gara delle prossime edizioni del Paglio di Taranto. O almeno una delle due manche. Cosa dire, abbiamo dieci equipaggi fortissimi che si stanno allenando. Abbiamo un equipaggio giovanissimo di due ragazzi che provengono da un'altra associazione sportiva. Questo evento lo facciamo come al solito grazie alla collaborazione della Marina Militare e del Comune di Taranto. E' un particolare ringraziamento al Comune di Taranto che ci ha dato la possibilità di far realizzare da un maestro d'ascia di Taranto, l'unico qui in Città Vecchia, il cantiere Quintano, tutti quanti i venti remi che i vogatori utilizzeranno venerdì e sabato. Oggi pomeriggio infatti ci sarà il sorteggio e la benedizione di questi remi. Abbiamo pensato a questa gara fatta nel canale in modo tale che non ci possa essere assembramento e nello stesso tempo i vogatori possono vogare in tutta tranquillità. Abbiamo accettato la proposta della diretta televisiva ad Antena Sud e Canale 85 perché in questa maniera possiamo dare la possibilità a tantissima gente di seguire l'evento dalla televisione e quindi non avere problemi di venire direttamente sul canale e magari trovarsi con un assembramento che ovviamente non ci sembra logico e non ci sembra assolutamente utile. Quindi vediamoci l'evento del Palio in diretta televisiva e sicuramente sarà una bella manifestazione. Ok.